Gentili telespettatori, buona giornata. Il convivere con gli animali selvatici porta poi dei problemi di sanità pubblica. Ovviamente se Roma, come altre città italiane, è invasa dalla spazzatura, dai topi, dai gabbiani, dai cinghiali, dai pesci ratto, da tutto quello che volete, ovviamente arrivano poi dei problemi di sanità pubblica, di igiene pubblico. Adesso a Roma arriva la peste suina, tutti i parchi sono a rischio, all'insugherata già ci sono i cancelli chiusi con ordinanza delle autorità sanitarie. A nord-ovest di Roma è zona rossa per la peste suina. Nelle aree naturali, che ricadono nel perimetro stabilito dalla regione, è vietato persino organizzare i picnic. Eh, la posta in gioco è alta. L'uomo non rischia il contagio, ma le persone possono essere vettori per la diffusione del virus a macchia d'olio. Mangiando all'aria aperta, poi si attirano i cinghiali in cerca di cibo. Coldiretti stima la presenza di almeno 20.000, chiamiamoli, cinghiali setolosi, molto setolosi, gli ungolati selvatici nella provincia di Roma. E proprio a nord-ovest della capitale, nella riserva dell'insugherata, è stata rinvenuta il primo cinghiale positivo alla peste suina, africana. Nicola Zingaretti, presidente del Lazio, ha stabilito un'ordinanza per i comportamenti che i cittadini devono seguire all'interno delle aree verdi, nella zona rossa, è vietato avvicinare i cinghiali e dar loro da mangiare. In uscita dalle aree agricole e naturali, è raccomandato di infettarsi le scarpe. Il virus è particolarmente resistente. E infine, è vietato organizzare eventi all'aperto, inclusi i picnic, e creare assembramenti nei parchi ricadenti nella zona rossa. Per ora, quindi, non si potrà sfruttare la bella stagione. È un'ordinanza regionale fatta proprio da Nicola Zingaretti, l'ex segretario del PD, che è il presidente della regione Lazio. Questa ordinanza riguarda i parchi di Roma Nord-Ovest, parchi naturali, all'interno del grande raccordo anulare. L'Insugherata, il parco del Pineto, la riserva di Montemario, è una porzione del parco di Veglio. L'ente Roma Natura ha già chiuso i cancelli della riserva dell'Insugherata e affisso gli avvisi sulla presenza di animali affetti da peste suina. Anche nella Pineta Sacchetti, parte del Pineto, i picnic sono stati banditi. All'Inviolatella Borghese, dentro il parco di Veglio, al parco di Monte Ciocci, nella riserva di Montemario, e in diverse altre ville che ricadono nel perimetro dei parchi principali. Da chiarire se il divieto riguarda anche i giardinetti di quartiere, anche se la presenza dei cinghiali nel centro umbro urbano lascia pensare che le stesse regole valgano anche per chi frequenta i comuni parchi gioco che ci sono a Roma. E così, poi, ovviamente, c'è anche l'idea di Zingaretti di recintare la spazzatura per fermare la peste suina. Così, Zingaretti firma l'ordinanza. Bisogna porrele delle recinzioni intorno ai cassonetti dei rifiuti per impedire l'accesso ai cinghiali setolosi, molto setolosi. E così arriva la soluzione di Nicola Zingaretti per combattere questo virus che sta continuando ad agitare Roma. Recintare, sì, i cassonetti dei rifiuti per evitare l'ingresso dei cinghiali. Quindi, i recinti... Beh, io ho già visto a Ostia recintare i rifiuti. c'era un rifiuto abbandonato sul marciapiede in via delle Azzorre, questo qualche anno fa, e ho visto piantare per terra, nel cemento, dei paletti di ferro intorno a questa roba qua e poi con la rete gialla, arancione, quella bucata, no? Quindi, al posto che tirarla su, la spazzatura, l'hanno recintata. Ed era spazzatura che potevano in cinque minuti prendere, buttare su un camion e portare via. No. Sono arrivate delle persone per recintare la spazzatura, impiegandoci probabilmente magari anche mezz'ora, un'ora, invece di prendere la spazzatura e portarla via. E non era una scena del crimine che doveva... Era come la scena del crimine, no? Scritto così, le indagini sono in corso... Ecco. Vedo cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Ma così, l'ultima ordinanza di Zingaretti è proprio quella di recintare i cassonetti della spazzatura. Così il cinghiale setoloso, molto setoloso, e non si avvicina. Nell'ordinanza si individua poi una zona infetta, quella di cui abbiamo parlato prima, ma che prevede anche ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti di rifiuti. Ogni forma utile di recinzione. Quindi, ad esempio, non lo so, delle macchine, quello che trovate in giro, perché dice ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti di rifiuti. Cioè, una catena umana tutti messi così per fermare il cinghiale setoloso. L'obiettivo è quello di cercare di evitare l'accesso da parte dei cinghiali, oltre che ottimizzare il posizionamento dei cassonetti. Praticamente, tu recintando i cassonetti ottimizzi anche, hai l'occasione anche per metterli bene, dici, com'è che si vedono meglio? Aspetta, metterli un po' così, perfetto, bello così da vedere. L'edizione odierna del tempo fa notare che la situazione è piuttosto complicata, visto che i problemi non sono limitati solo al modo di ingabbiare i rifiuti, perché siamo ancora col problema dei rifiuti nella capitale, senza dimenticare che le discariche abusive inevitabilmente attirano gli ungolati. Ci sono poi altre novità, vabbè, quelle le abbiamo anche viste prima, e nelle aree protette dovranno implementare una sorveglianza passiva rafforzata. Ma cosa sarà mai la sorveglianza passiva rafforzata? Intanto, i veterinati li sono chiamati ad aiutare a, se troppo si svedono cinghiali moribondi, un campionamento di tutte le attività correlate, ivi compreso e il successivo immediato aggiornamento del sistema informativo pre-posti. Comunque, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.